Un pendolare a sito della metro, un incidente del genere vi fa avere più paura, più rabbia? Io per esempio la prima cosa che avevo pensato, lascio stare quello che uno potrebbe pensare, la prima cosa adesso venendo qui avevo pensato che sarebbe stato proprio in mille casi un attacco terrorista. Sì perché sapendo che con tutti questi conflitti a livello internazionale, però lei da poco, giusto da poco, siamo venuti e abbiamo scoperto questa... Ma quindi c'è un senso di insicurezza quando prendete il treno o è... C'è molta malinformazione, soprattutto le tempistiche, soprattutto c'è due treni per linea, comunque ci sono paesi e città molto duri, non perché quanto altro, però i servizi sono molto migliori, dovrebbero migliorare i servizi e dovrebbero avere più sicurezza, soprattutto per i passeggeri, proprio perché c'è sempre un qualcosa che non vale. Io spero che qualcosa si possa risolvere, quindi spiaciuto per l'accaduto di questa pazienza con mezzanetto ormai a speciale.